Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, siamo sulla nostra Master League di PS6 patch 2022 e siamo agli sgoccioli di questa prima stagione con il nostro Parma Calcio in Serie B. Quindi vediamo un po' il calendario prima di iniziare, come vedete mancano le partite con il Lecce e con il Venezia, la finale di Coppa a noi non interessa perché siano stati eliminati proprio dal Lecce, quindi ci mancano queste due giornate, facciamo sicuramente queste due partite, vediamo come finisce il campionato e anche in base a come finisce il campionato studieremo il calciomercato che magari arriverà in un video a parte oppure alla fine di questo, vediamo insomma in base a quanto tempo anche prende. Ma buttiamoci in questa partita contro il Lecce, non con queste magliette magari, così. Giocheremo con la seguente formazione, formazione titolare, difesa titolare, centrocampo pseudo titolare con Boucher che va a sinistra e ha la solita mezz'oretta di autonomia e in attacco il nostro super attacco titolare Amsun Castolo. Partiamo ragazzi. Prima partita di queste due per noi finali fuori casa, giochiamo fuori casa e sarà importantissimo riuscire a vincere, importantissimo riuscire a vincere, quattro squadre a pari punti, quattro squadre a 22 punti per differenza reti. Noi siamo terze, quindi in questo momento saremmo fuori dalla promozione, siamo fuori dalla promozione in Serie A, sarebbe veramente un peccato non riuscire a rientrare tra le prime due per una questione di spareggi e di differenza gol. Quindi cerchiamo di darci da fare, è anche vero che noi non abbiamo mai vinto effettivamente le partite con distacco, anzi abbiamo sempre faticato e vinto le partite di misura perché non riusciamo a fare più di un gol in pratica, o quasi. Buttiamoci nella partita. Amsun per Espimas che prova a correre, Lecce squadra ostica per il Parma, Minanda che finora non ha fatto una grande stagione, è stato falciato al limite dell'area ma l'arbitro lascia correre. Koda, sponda di testa, Boucher mette fuori il Lecce, Castolo ancora per Amsun, il tiro! Mamma mia che occasione ha avuto Amsun! Ha avuto un'occasione incredibile davanti alla porta ma ha dovuto tirare veramente in pochissimo tempo e da fermo e non è riuscito a centrare la porta, la palla si è alzata. Dodo, che effettivamente dovremmo proprio mettere capitano perché ha avuto sempre l'atteggiamento da capitano Dodo, fin da quando andavamo molto male, molto peggio. Minanda allarga bene stavolta per Boucher, Boucher che va dentro, Boucher si deve fermare, Amsun non arriva la palla per un niente, grandissima chiusura da parte del Lecce. Attenzione al Gallo, strefezza. Giocatore che comunque ha solcato i campi di Serie A già e che non vede l'ora di tornarci. Potrebbe addirittura tornarci con noi, vi dico anche questa cosa. Attenzione Spimassu, la fascia per Dodo che però non è proprio il giocatore da far correre. Minanda, Amsun falciato, falciato malissimo al limite dell'area. Bruttissimo fallo su Amsun. Questo è veramente un fallaccio e Amsun purtroppo deve lasciare il campo per ricevere le cure dello staff medico. Vediamo se riuscirà a rientrare. Credo non sia stato nemmeno ammonito il giocatore del Lecce, incredibile. Per un fallaccio. Attenzione a Boucher che quasi arriva prima dell'uscita di Gabriel. Amsun intanto rientra ma ha bisogno del cambio. Questa è una notizia terribile per noi. Terribile. Ruskin che si trova stranamente in fase offensiva. Boucher, Boucher rientra. Buonissimo dribbling, il cross meno. Amsun prende palla nonostante sia infortunato. Per ora rimane in campo. Vediamo se riesce ad arrivare fino alla fine del primo tempo. Ivarov con i pugni, non si fida della presa. Ma strefezza, ottima giocata dentro. Ancora strefezza, mamma mia che azione. Il colpo di testa è pericolosissimo di Di Mariano. Allora Di Mariano è un'ala destra. Però in realtà gioca veramente a tutta fascia. Perché l'ho visto veramente fare anche il terzino. Quindi è proprio un giocatore che può fare benissimo l'esterno di un centrocampo a 5. Anche se poi noi non sappiamo l'anno prossimo come giocheremo. Attenzione, Minanda per Castolo. Ottima palla. Castolo fuori, fuori, Castolo. Mannaggia a te. Mannaggia a te Castolo. Castolo che ha ritrovato nelle ultime giornate un'importantissima vena realizzativa. In questo caso è stato molto impreciso. Minanda, brutto passaggio all'indietro. Palla persa. Finisce il primo tempo di una partita molto bloccata. Molto molto bloccata in cui abbiamo avuto effettivamente qualche occasione. Però c'è forse tanta e troppa paura di esporsi in questo momento. Facciamo queste due sostituzioni. Chiaramente Amsun per Ordaz a questo punto. e al posto di Bourget, che tanto sarebbe morto tra 5 minuti, mettiamo Imelec. Inizia il secondo tempo di questa prima partita delle due partite finali del campionato di Serie B. Che buona alternativa offensiva. Attenzione a Di Mariano. Attenzione a Di Mariano che è pericoloso. Attenzione a Di Mariano che se ne va in mezzo a tanti giocatori del Parma. Calcio d'angolo. Una partita stranissima questa. In cui alla fine è stato il Parma che ha avuto le occasioni migliori. Ma che sembra non in controllo. Che è successo? Fallo, fallo. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, ho temuto per il rigore. Perché non si sa mai. Con l'Ecce, con l'Ecce veramente... Stiamo vedendo, ho visto delle cose importanti ecco. Dal punto di vista dell'arbitraggio. Non me ne vogliono quelli dell'Ecce, eh, però. Espimaz subisce fallo. Siamo al sessantesimo. Minanda potrebbe provare dai 30 metri. Ma è abbastanza lontano, eh. Minanda parla che è nello specchio della porta ma è molto debole. Strefezza se ne va su Minanda che con tanta forza di volontà prova a tenerlo ma non ci riesce. C'è il colpo di testa, mamma mia, mamma mia, che rischio. Maier di testa, da fermo, quasi la mette sotto l'incrocio. Valení, strappa palla. Ordaz è fermo, immobile. Attenzione, attenzione, Valení si è inserito. Valení, Valení, mamma mia che occasione. Che occasione. Che azione aveva fatto Valení, aveva strappato palla a centrocampo e poi si era buttato nello spazio. Era stato servito molto bene da Minanda stavolta. Anche ragazzi, arriva una mossa pazza. Una mossa pazza che può stravolgere tutto. Mettiamo Foucault al posto di Minanda che stava boccheggiando. E soprattutto proviamo a mettere Koulibaly e la sua fisicità là davanti. Imelec, attenzione, Koulibaly per Ordaz. No, no, a parte che l'aveva sbagliato, ma non era fuorigioco. Mamma mia di quanto. Mamma mia di quanto, di un centimetro. Strefezza, Strefezza che ha fatto una grande partita. Attenzione perché se n'è andato. Attenzione perché se n'è andato Strefezza. Attenzione perché se n'è andato. Tira fortunatamente fuori da posizione defilata. Forse ha voluto un pochino esagerare Strefezza. Imelec fermato con il fallo. L'ennesimo, tra l'altro, del Lecce. Foucault che ha una pigna potentissima. Tiro! Però gli manca tutto il resto, soprattutto la precisione. Dove caspita l'ha tirata Foucault la palla. Mannaggia a lui e a chi lo fa giocare. Purtroppo Ragusa può correre perché non c'è nessuno su quella fascia. E mette una bruttissima palla al centro. Ruskin, grandissima chiusura. E qui penso si conclude la partita. Sì. Finisce la partita 0-0. Una partita che non poteva finire altrimenti. Abbiamo avuto le nostre occasioni nel primo tempo, ma non abbiamo fatto abbastanza. Ho poca poca precisione sottoporta. Allora ragazzi, la situazione di classifica è la seguente. Nonostante il pareggio, siamo riusciti a fare un passettino avanti e rientrare tra le prime due. Adesso, all'ultima, ce la giochiamo col Venezia, che è a 22 punti. Ce la giochiamo col Venezia. Una vittoria potrebbe comunque non bastare. Perché se il Genoa vince e ci supera nella differenza gol, comunque saremmo fuori. Noi dobbiamo provare a fare il nostro dovere. Tra l'altro, mi ero sbagliato. Come sempre, con questo discorso di in casa e fuori casa non si capisce molto. In questo caso ho sbagliato io perché eravamo in casa contro il Lecce, non fuori casa. Adesso invece andremo a giocare contro il Venezia, fuori casa. E quindi ce la giochiamo, ragazzi. Ce la giochiamo, peccato, perché questa vittoria contro il Lecce sarebbe stata importantissima. Però è la nostra bestia nera. Cioè, proprio, è la nostra bestia nera. Tra l'altro, giochiamo con Amsun infortunato. Il che non mi fa stare proprio tranquillo, diciamo. Allora, ragazzi, credo che la migliore formazione da fare a giocare al momento sia questa. Ho messo Dodo, Yuga, Mark Landers a centrocampo, in mediana. E ho avanzato con Ibali, appunto, a trequartista. Ordaz, Castoro davanti. Non c'è molto che possiamo fare. I giocatori sono stanchi. Minand e Boucher pronti ad entrare. I giocatori sono stanchi, ma è l'ultima giornata. Quindi cerchiamo di farli spompare fino alla fine per bene. Andiamo. Ecco, adesso che dovremmo essere fuori casa, siamo a Legno Tardini. Questo è il motivo per il quale io mi confondo veramente. Che dovremmo essere effettivamente in casa del Venezia in questa partita. Ragazzi, siamo scopera di un punto sul Venezia. Dobbiamo provare a vincerla. Sarà difficilissimo perché il Venezia è squadra di Serie A vera. E quindi sono cavoli. Però ce la dobbiamo mettere tutta. È l'ultima partita. Cercare di andare in gol in quelle poche occasioni che riusciamo a ritagliarci. Cosa che non siamo riusciti a fare contro il Lecce. E tra l'altro adesso non abbiamo nemmeno Amsun che è il nostro attaccante titolare. Il nostro attaccante che ha cambiato il volto alla squadra. Poi in realtà l'acquisto di metà stagione che abbiamo trovato internamente alla squadra. Nani prova a destreggiarsi. Koulibaly recupera una palla importante. Palla per Ordaz. Ordaz allarga di nuovo per Koulibaly. Palla dentro per Ordaz che non ci arriva. Non ci mette la testa purtroppo. Doveva metterci assolutamente la testa su questo pallone. Manca quel raccordo che avevamo trovato in Amsun. Attenzione a Espimass. Attenzione a Espimass. Il tiro violento ma centrale. Mempa farà in modo sicuro. In. Kinn. Grande giocata. E tunnel su Imelez. Palla bellissima per Sigurdsson. Che azione da parte del Venezia. Da parte di Kinn soprattutto. Attenzione. Castolo. Imelez. Koulibaly ancora per Castolo. Attenzione a Koulibaly. Attenzione a Koulibaly. Koulibaly. Kiro deviato all'ultimo secondo. Kiro che poteva essere veramente pericolosissimo. Yuga per Koulibaly. Ordax prova a tenerla. Grandissima giocata di Ordax. Attenzione a Koulibaly. Tira però col mancino debole. E Mempa para. Let's. Fine primo tempo. Fine primo tempo. Mempa è stato parecchio comunque occupato. Però alla fine partita anche questa bloccata. parte il secondo tempo. Ragazzi sono due partite. Queste ultime due del campionato molto bloccate. In cui veramente non si riesce. Non si riesce. A segnare. Non che mi aspettassi delle partite spettacolari. Perché comunque quando si ha anche paura. Di prendere gol. C'è il rischio che siano partite bloccate. Però non me l'aspettavo così. Cioè così tanto. Castolo per Ordax. E ora che fa Ordax. Che ne ha quattro davanti. E non c'è nessuna da aiutarlo. Castolo. Deve tenerla. Non arriva nessun aiuto. Dove sta Koulibaly? Mannaggia a lui. Che è trequartista. Dove sta? Attenzione. Palla per Koulibaly. Imprecisa da parte di Ordax. Era veramente difficile. Castolo. Per Ordax. Chiede l'1-2. Castolo provà ad andarsene. Castolo ancora per Ordax. Ordax! Mamma mia che parata di Mempa. Ma tutti contro di noi le fanno queste parate. Che azione era stata. Ordax non riesce ad angolare. Yuga. La mette dentro da calcio d'angolo. Palla molto sul portiere. Ma non ci arriva nemmeno a prendere il portiere. Dodo. Tiro debole. Koulibaly allarga per Boucher. Boucher che è fresco per una volta. Ancora palla per Koulibaly. Koulibaly. Koulibaly! Mamma mia che ho sbagliato. Mamma mia che ho sbagliato. Pensavo che spostando la palla potessi effettivamente superare il portiere. Che invece è rimasto fermo e immobile. Mannaggia a lui. Attenzione adesso al Venezia. Potrebbe incidere sulla partita adesso che i giocatori del Parma sono molto stanchi. Molto molto stanchi. Yuga. Ma non facciamo portare palla avanti a Yuga. Mannaggia a chi dico io. Sempre Yuga. E dove stanno gli altri? Dove sta Koulibaly? Niente. Koulibaly lo puoi mettere anche... Mamma mia. No. 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 Ah. Hanno fatto la stessa cavolata che abbiamo fatto noi almeno. Almeno ce la siamo restituita. Ultima palla dentro di Boucher. È brutta. È brutta ma è pericolosa. È calcio d'angolo. Molto pericoloso il cross di Boucher. Yuga dalla bandierina. E Spimas non ci arriva di un niente. Attenzione a Valenie. Ancora rimane in attacco. Boucher. La palla per Ordaz. Mamma mia che parata di Menpa. Mamma mia che parata di Menpa. Questa è veramente incredibile. Incredibile. Attenzione perché esulta il Parma. Esulta il Parma. Quindi cosa mi state dicendo? Cosa mi state dicendo? Il Parma esulta. I giocatori del Parma esultano. Questo potrebbe voler dire promozione. Nonostante le grandissime parate di Menpa su Ordaz. Soprattutto quest'ultima. Incredibile. I giocatori del Parma stanno esultando. Attenzione. Andiamo a verificare se effettivamente è arrivata la promozione. Mamma mia che parata ha fatto Menpa. Mamma mia. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio di loro. Andiamo a verificare. Sì ragazzi. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Siamo in Serie A. Siamo saliti insieme al Cagliari. Pezzi ed Empoli e scendono invece in Serie B. Adesso dobbiamo decidere quelle che sono le partite. Le partite del precampionato. Io sceglierei comunque delle squadre di Serie A. Ne possiamo fare una aggiornata. Ma io tanto poi saranno distrutti i giocatori. Quindi magari ne facciamo la metà ecco. Di partite nel precampionato. Squadre che mi piacciono e con cui ci possiamo mettere alla prova. Scegliamo il Cagliari. Visto che è salito anche il Cagliari in Serie A. Scegliamo magari... Non lo so. Non lo so. Una squadra anche estera. Per confrontarci con una squadra estera un po' più alla nostra portata. Magari queste un po' più scarse. Cosa c'è di Premier? C'è qualcosa di Premier? Newcastle. Ma Newcastle non è forte. Non ci ammazza. Vabbè scegliamo il... No queste sono di Serie B. Vabbè scegliamo Newcastle dai. Vediamo come va. Scegliamo queste. Quindi ragazzi. Allora. Allora. Questa è la classifica finale. Siamo arrivati a 24 a pari punti con il Genoa alla fine. Quindi anche il Genoa ha pareggiato due partite consecutive. Però siamo rimasti con la stessa differenza reti. Quindi questo credo voglia dire che abbia fatto un altro 0-0. Cioè abbia fatto 2-0-0 il Genoa. Il Genoa ha fatto 0-0 col Cagliari. E poi ha fatto 1-1 col Benevento. Ed è il motivo per il quale ha mantenuto la stessa differenza reti. Che finale di campionato. Cioè siamo riusciti a passare con 2-0-0. Anche un bel po' di culo. Lo possiamo dire. Un bel po' di fortuna. Volevo vedere anche alla fine quelli che sono la classifica marcatori. Castolo ha 4 gol. E con i bali a 3. Con 3 rigori però va detto. Classifica assist. C'è Amson 2. Che non ha potuto giocare quest'ultima partita. E come premi. Coda miglior giocatore. Capocannoniere per l'appunto destro. E miglior assist man. Baselli del Cagliari. Questa ragazzi è stata il finale di stagione. Abbiamo 11.000 come fondi da poter investire sul mercato. Lo vedremo. Nel prossimo. Adesso vediamo il calendario. Adesso abbiamo... Abbiamo... Quante sono? 8 giornate di calcio mercato. Quindi inizia adesso il calcio mercato. In cui avremo anche queste partite. Queste 4 partite di precampionato. Per prepararci alla Serie A. Lo vedremo in un prossimo episodio. In cui magari anche infrasettimanale vediamo. Faremo il precampionato e il calcio mercato insieme. Magari come episodio extra. E poi ci buttiamo in questa Serie A. Che abbiamo immeritatamente, lo possiamo dire, conquistato. Ragazzi io come sempre vi invito a farmi sapere in un commento cosa ne pensate di questa serie. Se siete contenti di questa promozione oppure sarà meglio restare in Serie B e potenziare la squadra. Vi invito come sempre a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E se vi piacciono i miei contenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi. Ciao!